L'Ignazio Silone a parte di essere un simbolo storico della nostra città, comunque ha attualmente l'unico campetto sportivo in pieno centro, utilizzato tutti i giorni a tutte le orarie e soprattutto abbiamo un bar che è praticamente diventato uno spazio di aggregazione per qualsiasi fascia di età e target e effettivamente ce ne sentiamo privati senza neanche aver avuto l'opportunità di parlare con la nostra amministrazione, Grazie